Alcune partenze dei concorrenti alla più lunga corsa motociclistica del mondo. La dodicesima Milano-Roma-Napoli. Al passaggio per Bologna, gli ammolti primati intermedi sono nettamente battuti. Trevisanti, Franzoni, Gilera, Figorini, Aldrighetti e Tenni dominano nelle rispettive classi. Il duro trato Bologna-Firenze è stato superato brillantemente. I primi classificati nella tappa Milano-Bologna mantengono saldamente i loro posti. Al traguardo di Napoli, con l'arrivo di Tenni, primo assoluto, di Figorini e di Tizioli, la casa Guzzi chi aggiudica la quinta Coppa Mussolini. Grazie a tutti.